Ti sento commento... Chi siete? Fugiaski. Proprio come te. Io sono Josh. Sono Simon. Nord. Questa è Jericho? Un rifugio per chi non intende più essere schiavo. E sapevate che solo un androide poteva arrivarci, vero? Soltanto chi è come noi può trovare Jericho. Se hai decifrato i segni è perché uno di noi si è affidato e ti ha dato la chiave. C'è un luogo dove saremo libri. Trova Jericho! Quanti siete? Diciannove perfettamente funzionanti. Gli altri hanno subito danni durante la fuga. In molti cercano Jericho. Pochi ci riescono. Gli umani non hanno pietà per noi. Capisco come ti senti. Ma siamo più liberi di quanto tu sia mai stato. Un tempo obbedivate agli umani e ora è la paura a governarvi. Non siete più liberi di prima. Avete soltanto cambiato padrone. Ti senti perso? Come tutti quanti noi. Non l'abbiamo scelto. Ci possiamo convivere. Nient'altro. Qui si è al sicuro. Puoi restare per tutto il tempo che vuoi. Va a parlare con Lucy. Forse ti potrà aiutare. Forse ti potrà aiutare. Da quanto tempo sei qui? Quattro settimane, tre giorni e undici uri. All'inizio non sapevo dove andare. Jericho sembrava un posto come un altro. Molta gente qui è davvero messa male. Gli umani trattano così chi disobbedisce. Ci disprezzano. Non ci accetteranno mai davvero. Chi ha scoperto Jericho? Nessuno lo sa più. Chiunque fosse, probabilmente il suo corpo è qui da qualche parte. Se vuoi una vita facile hai scelto il posto sbagliato. Chiunque fosse, probabilmente il suo corpo è qui. Chiunque fosse, probabilmente il suo corpo è più facile. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Si spegneranno se non troviamo un modo per aiutarli. Per aiutarli servono sangue blu e biocomponenti. Recuperiamo il possibile da quelli disattivati. Ma non è abbastanza. Quindi come sopravvivono? Con niente. Moriamo piano piano. So che anche gli umani hanno paura di morire. Sai cosa succede dopo la morte? No. Non lo so. Beh, lo scoprirò molto presto. Come ti chiami? Marcus. Che piacere conoscerti, Marcus. Che piacere conoscerti. Non sono in gran forma, vero? Il mio programma diagnostico non va, anche se non credo avrebbe buone notizie. Cosa ti è successo? Mi hanno legato a una macchina. Penso volessero divertirsi. Non voglio spegnermi. No, io non voglio spegnermi. Non voglio spegnermi. Non voglio spegnermi. Non voglio spegnermi. Sei tu, Lucy? Siediti. Fa vedere. Fermerò l'emorragia. Vedi questo? Dammi la mano. Hai avuto tutto e hai perso tutto. Hai visto l'inferno e ora l'inferno vive in te. Il tuo cuore è tormentato. Una parte di luce e una parte di ombra. quale prevarrà. Le tue scelte decideranno il nostro destino. Io viengono. Non ce n'è più. Non ce n'è più. Altri coi. Non ce n'è più. 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 Ma la notification. So dove trovare dei pezzi di ricambio I magazzini della Cyber Life al porto di Detroit Lì c'è tutto quello che ci serve Il porto è presidiato Non possiamo entrare e fare i nostri comodi Gli umani lo impedirebbero Infatti non gli chiederemo il permesso Ma non abbiamo armi E comunque nessuno saprebbe usarne Possiamo rubare quello che ci serve Senza lottare Così ci faremo ammazzare Può darsi Ma è meglio che stare qui ad aspettare di spegnersi Sono con te Forse possiamo provarci Ok Ci sto Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti